Centinaia di migliaia di giovani di tutto il mondo stanno raggiungendo Cracovia in Polonia dove dal 25 al 31 luglio saranno protagonisti della 31esima giornata mondiale della gioventù nel segno di San Giovanni Paolo II che 32 anni fa ha creato le GMG ed è stato guida del popolo polacco nel suo recente cammino storico verso la libertà. Lo ha ricordato martedì Papa Francesco che in Polonia compirà il suo quindicesimo viaggio apostolico in un videomessaggio indirizzato alla Polonia e ai giovani del mondo. Ho un grande desiderio di incontrarvi per offrire al mondo un nuovo segno di armonia, un mosaico di volti diversi, di tante razze, lingue, popoli e culture, ma tutti uniti nel nome di Gesù che è il volto della misericordia. La misericordia è il tema di questo viaggio come ci ricorda il segretario di Stato Vaticano Cardinale Pietro Parolin che accompagnerà il Papa in Polonia in questa intervista. Dire misericordia significa fare riferimento a una parte fondamentale dell'eredità magisteriale e spirituale di Papa Voitiwa, di San Giovanni Paolo II, il quale appunto ha dedicato una delle sue prime encicliche, la Dives in misericordia, proprio alla realtà della misericordia. E poi ha preso molte altre iniziative proprio per sottolineare questo aspetto. Basterebbe ricordare la canonizzazione di Santa Faustina nell'anno santo e ancora l'istituzione della Domenica della Divina Misericordia, nella Domenica in Albis, la seconda Domenica di Pasqua. Quindi ecco Giovanni Paolo II ha sottolineato molto questo aspetto che sarà ripreso proprio da Papa Francesco nel corso di questa giornata per accendere questa scintilla, la scintilla della misericordia nei cuori dei giovani e far divampare il fuoco della misericordia in tutto il mondo secondo il tema della giornata, beati i misericordiosi perché troveranno misericordia. Il Papa torna nel cuore dell'Europa e con la Polonia visita il primo grande paese europeo dopo il viaggio a Strasburgo. Cosa dirà all'Europa di oggi? Direi che si può raccogliere questo messaggio in due parole. Un messaggio di speranza di fronte al futuro dell'Europa ecco e di fronte anche alle tante sfide ecco che sono poste davanti alla costruzione europea e un messaggio di coraggio, un messaggio di coraggio, un messaggio di coraggio nel senso di riscoprire quelle che sono le autentiche radici cristiane dell'Europa ecco che hanno permesso all'Europa di diventare quello che è. Il Papa ricordava soprattutto questo spirito umanistico che l'ha sempre caratterizzata e nello stesso tempo anche coraggio che significa saper annunciare il Vangelo nelle mutate condizioni di vita in cui si trova e di fronte appunto ai grandi problemi che si trova ad affrontare ogni giorno soprattutto direi io il problema delle grandi povertà sia spirituali che materiali. A Cestocova davanti alla Madonna Nera il Papa ricorderà il 1050esimo anniversario del Battesimo della Polonia. La comunità cattolica polacca riesce ancora ad essere testimone di questa fede o il secolarismo sta facendo in qualche modo breccia? Ed è una celebrazione prima di tutto di ringraziamento ecco il Papa va a ringraziare insieme con la Chiesa polacca con i pastori e con i fedeli per questi mille anni di fede cristiana e anche direi anche per quello che è successo in questi ultimi 50 anni la ritrovata libertà, la possibilità di esprimere liberamente la propria fede. Ecco io credo che la Chiesa polacca per quello che ho potuto vedere anche direttamente durante la visita che ho fatto e anche le precedenti visite è una Chiesa ancora forte, è una Chiesa viva che unita ai suoi pastori continua a testimoniare la fede anche nelle mutate circostanze attuali ecco ci sono tante famiglie buone, ci sono tanti giovani che ancora si impegnano nella formazione e nella vita cristiana c'è slancio missionario, c'è desiderio di apostolato quindi ci sono vocazioni ancora, vocazioni alla vita sacerdotale e alla vita religiosa quindi un tessuto che ancora a mio parere fondamentalmente tiene certo che è chiamato a rispondere alle nuove sfide come lei ricordava prima, la fida principale è proprio questa del secolarismo, quindi della perdita del senso di Dio e del vivere come se Dio non esistesse nelle nostre società in questo senso la Chiesa polacca dovrà essere creativa e aperta appunto a trovare modalità nuove anche per rispondere a questi nuovi problemi gli orrori di Auschwitz e di Birkenau e le sofferenze dei bambini dell'ospedale pediatrico ecco incontrando le sofferenze di ieri e di oggi il Papa ricorderà la testimonianza di chi ha dato la vita per gli altri come San Massimiliano Colbe? sarà un richiamo silenzioso perché il Papa non farà discorsi in quella circostanza ma io credo che di fronte agli orrori ecco il silenzio a volte più eloquente delle stesse parole ma sarà un richiamo e un ricordo di tutte queste vittime dell'odio e della pazia umana per ricordare che ancora oggi purtroppo esistono situazioni di violenza di disprezzo della vita umana ecco di disprezzo della persona situazioni in cui si fomenta la divisione situazioni in cui si usa il terrore, il terrorismo per degli interessi personali per una costruzione ecco di interessi economici e politici e d'altra parte ecco l'aspetto dell'ospedale come vicinanza al dolore delle persone questo il Papa richiama spesso che la Chiesa deve essere vicina ecco la Chiesa deve essere prossimo ecco di tutti quelli che si trovano nella sofferenza quindi chi più dei bambini ammalati si trova in questa situazione di necessità di avere qualcuno che sia vicino come buon samaritano credo che la visita all'ospedale ha proprio questo significato il Papa ne ha fatto, ne ha fatto altri mi ricordo che in Messico mi pare quando ha visitato un altro ospedale pediatrico ha parlato della terapia, dell'affetto, l'affetto terapia ecco anche qui certamente userà la stessa terapia nei confronti inviterà tutti noi a farlo nei confronti di questi bambini e nei confronti di tutti coloro che soffrono e nei confronti di tutti coloro che soffrono